Ho cercato ragazzi di capire come si pronunciasse Villar Penso si dica Villar anche se la pronuncio non l'ho trovata Quindi per me è Villar E allora Villar è un nuovo giocatore della Roma Lasciate tantissimo mi piace se volete un video un po' particolare per la Roma Ma in generale un po' per tutte le squadre Quindi mi raccomando, tanti mi piace qui sotto Popolo lascia like, papam papam, like, like, like Iscriviti al canale, ti ricordo tra l'altro Che puoi trovarmi sul mio secondo canale Trovi il link in descrizione in cui parlo di calcio E appunto trovi video che qua non trovi Puoi seguirmi su Instagram, puoi seguirmi su TikTok Puoi seguirmi dove le pare Quindi mi raccomando Passi in descrizione, i podcast e tutto Perché ce trovi tutto Abbiamo comprato Villar Allora, chi è Villar? Beh, allora, con calma Premessa importante La Roma a centrocampo aveva bisogno di un giocatore Qualcuno dirà, sic ma non avevi detto che la Roma aveva bisogno di un centro avanti e di un ala? Sì, è vero Però a centrocampo eravamo abbastanza contati Perché oltre vere tu e diavara che sogni titolari Tu c'hai Brian Cristante che alza i campanili Che si sente forse giotto alza i campanili Ma altro non fa Ok, quindi avevamo bisogno di un altro centrocampista Prima a centrocampo c'era anche Pellegrini Poi è stato promosso a trequartista ufficiale della squadra Inoltre Zaniolo è morto Mkhitaryan è più sdraiato che in piedi E quindi insomma Pellegrini è il trequartista ufficiale E sulla mediana abbiamo solamente tre giocatori Ovviamente per una squadra che punta Poi non si sa Però punta ad andare più avanti possibile in Europa League Magari a vincerla Ma magari E appunto a far bene in campionato Tre centrocampisti per due posti sono veramente veramente pochi Addirittura pensando poi che c'è un posto per un trequartista Quindi magari, magari così facendo Cristante può fare la spola tra vice Pellegrini E vice di Avarà e vice di Miziaqua velata E ci abbiamo un altro calciatore Allora Villar non arriva per fare il titolare Villar come si dice non arriva per fare il titolare Non arriva per fare il titolare Non arriva per fare il vice Quindi chiamiamolo vice Nel senso non comincia da di Ma chi è sta vipa ma chi è questo È un vice Arriva per fare la toppa Arriva per fare la... Come si chiama? Quando ti andrì piccolo cascavi Spaccavi tutti i pantaloni Tu nonna ti metteva Che la toppa Era a top Il cugnetto Eh ci mettevi a quello Ecco esattamente quello Villar sarà quello a Roma Quindi prima di cominciare a insultarlo a cazzo Aspettate e parliamo di Villar È un classe 98 Quindi è giovane C'ha 21 anni È un centrocampista centrale Di piede destro Ovviamente regà È uno di quelli che si spacca sempre Nel senso che questa Noi viviamo solo così Votico Quindi fateci abitudini Nel senso noi Quelli che sono sempre stati i seri E li prendiamo Perché poi smadonnamo Perché se erano mai rotti Si è rompendo noi Quindi prendiamo quelli già rotti Perché comunque male che vada Se erano già rotti Quindi nel senso poi Eh vabbè Però già erano rotti Quindi non è colpa nostra Sennò prendiamo quelli che si sono mai rotti Se spaccano E bestermiamo il doppio Quindi questo Se è già rotto Se è infortunato Terminisco Poi appena l'hanno lanciato In prima scuola Subito si è spaccato Ora è tornato ampiamente A titolare Però avverto Che si arriva a Fiumicino Che ha la borsa dell'acqua calda Quindi nel senso Anche lui non è che sia proprio Fresco come la rosa Diciamo sta cosa che è importante Ha molta personalità La Roma sta puntando Sui giocatori con le palle Con la cazzimma Ok Abbiamo parlato di Carles Perez Abbiamo parlato di 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 Come cazzo Di bagnez Tutti i giocatori Che hanno la personalità Poi che l'abbiamo dimostrato No È un altro conto Cioè Penso che Ai bagnez A Bergamo Lo bullizza Pure Come si chiama Cosa lì Quello là Traorella E il 16enne Più o meno Bullizzavano tutti I bagnez A Bergamo Però la personalità C'è là Quella di uscire Palla al piede A testa alta C'è là Ok Lo stesso si può dire Di Carles Perez Non è da tutti Giocare nel Barcellona E trovare un discreto Minutaggio a quell'età Partendo da essere sconosciuto Quindi pure lui La personalità C'è là E se l'è acquisita E lo stesso Si può divigliare Che comunque La personalità C'è là E questo Non si può assolutamente Non gli si può assolutamente Negare Non lo si può assolutamente Togliere Detto questo Gioca in serie B spagnola Quindi nel senso Parliamo comunque Di un titolare Però di una squadra Di serie B spagnola Però gioca da grande Ok Quindi diciamo Che può fare il salto Da grande È un po' Ve lo dico Come se stessimo prendendo Il tonale di Brescia Del primo Del Brescia De lo scorso anno Con la differenza Però che La squadra in cui Milita quest'anno È a metà classifica Il Brescia Era tra i primi posti Infatti è venuto su Però comunque Si parla di un valido Calciatore Di una valida Pedina Lui aspettava Il grande salto Non so se il salto È troppo grande Sinceramente Perché potrebbe anche Che il salto è troppo grande Visto comunque Che si passa Da giocare In una squadra Di serie B spagnola A giocare Per la Roma Che punta A vincere l'Europa League Però vi ripeto È una toppa Un rattoppo Quindi se Petrachi l'ha voluto Se Fonseca l'ha voluto Qualcosina Penso vorrà Pur dire Non penso che ci abbiano Visto doppio Può darsi Però non penso Tra l'altro Sta accumulando anche Qualche presenza In Under 21 spagnola Siamo presa tutta In Under 21 spagnola Noi abbiamo deciso Di essere la Spagna del futuro Che comunque male Non è visto che L'Under 21 spagnola Ogni Hortacan Ciciamo Ci fa un culo così Non guardate le mani Ma guardate direttamente Le braccia Ci fa un culo così Quindi magari Prendendo che i giocatori Potremmo fare un passo avanti Che poi l'avevo anche Anticipato nel video Di Carles Perez Ve lo ribadisco C'è una cosa Che sinceramente Fatico a capire No Allora Ve lo dico proprio Ve ne parlo Noi avevamo Monci Che è Spagnolo Ok E Abbiamo preso Giocatori Tutti Non so Zonzi Mamma mia Che è francese Abbiamo preso Chiamo preso Mancomo ricordo Figurato un po' Te Abbiamo preso Chiamo preso Abbiamo preso Tutti i giocatori Mezzi Tutti i giocatori Più o meno occidentali Tutti i giocatori Occidentali Ecco Il termine adatto È occidentali Nel senso Proprio vero del termine Quindi francesi Quindi Giociatori italiani Duri Cattivi Arriva Petrachi Io dico Ah Petrachi Non che me ne freghi nulla C'è il senso Poi magari si arrendono bene così Però Petrachi Petrachi ragazzi È uno di quelli che Prende o giocatori italiani O giocatori Da rilanciare Oppure giocatori italiani E da rilanciare Mi viene in mente Sirico per dirne uno Preso proprio Ritirato su E appunto Esploso Ma anche in Coulou Comunque il giocatore Molto forte Senegalese Preso che stava nel dimenticato Che è diventato Giocatore Cardine Izzo è stato rilanciato Per dirne un altro Ma tantissimi nel Torino Tantissimi veramente Mi viene in mente Ansaldi che è stato rilanciato È stato scoperto Ma di te Ok Poi erano tutti Ci sono stati spagnoli E poi Fonseca Mi aspettavo di diventare Il nuovo Wolverhampton Tutti i portoghesi Quelli Joao Mutinho Si parlava Gonzalo Guedes Quando è arrivato Fonseca Poi sono stati più tutti spagnoli Però non che mi dispiace Però è una riflessione Che volevo fare Comunque È un Diciamo è buono È buono perché In realtà Il suo ruolo originale Quello proprio puro Ecco A differenza dei Bagnaz Che mi ero incazzato Perché Bagnaz è uno De quelli che gioca Sempre che ha diviso a 3 Noi giochiamo a 4 Ecco Invece Vi ha raggiato Tutta la sua vita Nel 4-2-3-1 Da mediano Quindi proprio Nei due Del 4-2-3-1 Questo vuol dire Ragazzi Che arriva a Roma E sa perfettamente Quello che Fonseca chiede E non è per niente male Perché non c'è bisogno Di integrarli In un nuovo sistema Di gioco Quello Lì sta E va bene così Nel senso Di grandi problemi Non ce le facciamo C'ha la botta da lontano Segna manco Per niente Questo insegna manco Da dar panettiere Dice Mi segni Netto Mi segni Netto Due rosette Una ciriola Non lo segnano Perché lui insegna Veramente mai Ma ha fatto un go In tre anni Però la botta C'è là Poi ho detto Gli ha la parana Di l'affrontare portiere Sturba uno in difesa Però la botta C'è là Può giocare sia Mediano che centrocampista Quello che ho capito È che Fonseca Lo vuole prendere Perché vede Che ha le doti Così come Petraghi Insomma hanno parlato Suppongo A meno loro si parlano A differenza Di Moccia e di Francesco Che uno guardava a destra E uno a sinistra Pensano che possa essere Un giocatore Stile Rajan Angolan Però della mediana Nel senso Che è uno di quelli cattivi Che però Pian piano a Roma Crescendo Visto che è molto giovane Può un po' spaziare Quindi è uno di quei giocatori Che poi potrà diventare mediano Così come mezzala Così come centrale Così come trequartista E quindi insomma Pian piano potrà Un po' far tutti i ruoli Ok Penso che sia un giocatore Duttile Un giocatore intelligente Un giocatore che sa Interpretare ottimamente Quello che gli ha del mister E quindi sono molto fiducioso 5 milioni di euro La cosa che mi fa contento È che finalmente Io gli do 6 e mezzo Come acquisto 6 e mezzo Perché secondo me Non è per niente male Anche se voglio valutarlo Ripeto È un salto grande Il rischio di fare flop È gigante Però voglio valutarlo La cosa che mi fa contento È che è vero Che l'abbiamo pagato 5 milioni Da quello che sto leggendo ora Però finalmente Prendiamo gente nostra Gente nostra Gente nostra intendo Per anni Alla Roma a gennaio Compra gente In prestito secco Con diritti altissimi Che non riscatteremo mai Gente Panchinari Morti Mai risorti Che non riscatteremo mai Ok Oppure sconosciuti Un'altra Mi ha preso Ghiomber Un'altra volta Spolli Cioè nel senso Gente che non giocherà Manco un minuto Ecco Forse lui Avendolo pagato 5 bombe subito Il minutaggio Gli verrà concesso Poi non so Se alla fine arriverà Prestito con diritto Prestito con obbligo Però da quello che ho capito Sono 5 milioni di euro E quindi finalmente Gente nostra da valorizzare Se ho capito bene Farà 4 anni di contratto Quindi anche qua Potrà garantirci Sperando che tra 4 anni Non venne mai Juventus Come tutti quanti Potrà garantirci Un futuro secondo me Abbastanza buono Tra l'altro ho sentito Che doveva la Roma Parlare anche con il Valencia Sono contento La Roma sia riuscita A fare sia con l'Elce L'Elce Si dice l'Elce L'Elce Ma cazzo si dice Che con il Valencia Perché il Valencia C'aveva una recompra Sul giocatore Ha detto che non l'eserciterà Perché non gli interessa Contenti voi Alla Roma Il giocatore Mi interessa molto E quindi sono contento Che siano riusciti appunto A rimuovere il diritto Di prenazione del Valencia E a prenderlo noi Fatemi sapere la vostra Mi raccomando Con un commento qua sotto Lo conoscevate Vi piace? Non vi piace? Iscrivetevi al canale Qualora non l'aveste già fatto Io vi ringrazio Buonasera dalla E noi come sempre Ci vediamo in un prossimo video